Innanzitutto noi abbiamo il dovere e soprattutto l'obiettivo quello di superare gli 80 punti. Abbiamo ancora 12 punti a disposizione, bisogna cercare di prenderli. Domani cambierò qualcosa, anche perché noi tra la partita di sabato a Genova con la Sampdoria e quella di martedì con Real Madrid, la squadra ha speso molto. E soprattutto perché ho altri giocatori che sono in buone condizioni e quindi in grado di fare una bella partita domani e soprattutto di cercare di vincere questa partita. Domani gioca Storari e Tevez che domani sarà fuori. Pogba ieri si è allenato con la squadra, ha fatto anche un buon allenamento, ha lavorato un'ora con la palla quindi credo che ci siano le possibilità che domani possa giocare o dall'inizio o a partita in corso. Sicuramente non sarà in condizione di fare tutta la partita, però è importante per averla a disposizione a Madrid per verificare le condizioni oltre che fisiche e soprattutto la ripresa, la confidenza con la palla e con la partita. È importante per me ma soprattutto per la Juventus essere arrivati a giocare in una semifinale i Champions che era tanti anni che non ci arrivava e soprattutto in un'annata dove l'obiettivo era quello di passare il turno e nessuno sarebbe immaginato che si arrivasse a 95 minuti da Berlino. Eravamo a 180 minuti dalla finale e ora ne mancano 95. Non è facile perché credo che arrivare in finale sarebbe una cosa veramente straordinaria altrimenti sembra che ora Real Madrid sia una squadra scarsa. Real Madrid è una squadra di giocatori di grandissimo talento che fanno viaggiare la palla a una velocità supersonica quindi credo che a Madrid dobbiamo fare una grandissima gara e credo meglio di quella che abbiamo fatto a Torino. Però da questo ci pensiamo da domenica se no se si comincia a pensare ora Real Madrid diventa troppo lunga. Arriviamo laggiù siamo già stanchi quindi pensiamoci da domenica e anche da lunedì che è meglio.